ragazzi e ragazze io ho necessità della vostra opinione vi prego illuminate mi perché ho bisogno di un vostro punto di vista che ognuno crede che il proprio sia quello giusto sia legge ma evidentemente non è così la domanda è questa se un ragazzo dice mi vedo con una tipa cosa significa cioè questa tipa è una sua amica la sua amorosa la sua compagna questa frase mi lascia molto perplessa sono io forse troppo fissata di semantiche voglio trovare sempre il significato intrinseco nelle frasi che magari a volte non è e tuttavia a questo punto non so se io dovrei uscire con questo fantomatico personaggio poiché vede una ma a dire il vero non vorrei neppure trovarmi al posto di questa tipa poiché lui non mi attribuisce un ruolo ben definito allora io adesso per non pensare a queste frasi effimere mi dedico un po all'estetica faccio un giro in auto così che le mie cellule cerebrali non si riscalderanno troppo e non andranno incontro un'esplosione 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 un'esplosione